buona giornata buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 27 luglio 2023 una giornata più fresca questa notte ha fatto anche qualche goccia di pioggia questa mattina temperatura si è molto rinfrescata rispetto ai giorni scorsi quindi ormai ci avviamo speriamo di avere superato l'inferno che ci ha propinato il mese di luglio ma poi ne parleremo con il nostro amico Gianluca Guidi per quanto riguarda queste evoluzioni del tempo perché da una parte ci si aspetta ancora un agosto temperato un agosto soleggiato ma non troppo speriamo e dall'altra invece ci sono questi effetti un po nocivi per quanto riguarda le persone che lavorano specialmente quelle che fanno i lavori molto duri quelli nell'edilizia quelli sulle strade che ovviamente soffrono molto per il caldo ma noi passiamo come al solito attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è san pantaleone san pantaleone un un santo che è nato in nicomedia ebbene fu medico e martire visse nel terzo secolo e passò dalla cura del corpo possiamo dire a quello dell'anima alla fine fu martirizzato per la sua fede sotto l'imperatore galerio il suo culto molto praticato non solo in nicomedia ma anche a venezia dove molti cittadini veneti poi assunsero il suo nome tant'è che poi il suo nome dilagando tanto divenne anche il nome di una maschera tipica veneziana quella appunto di pantaleone ma pantaleone maschera non ha nulla a che fare con san pantaleone che fu un un martire un santo veramente venerato per le sue opere copia anche dei miracoli si dice allora vediamo le previsioni del tempo dopo l'acquazione di stanotte su tutte le marche si preannuncia un bel tempo con il sole splendente per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati e proverranno da este al pomeriggio tesi proverranno invece da este sud est il mare è poco mosso e le temperature si sono attestate dai 18 gradi per quanto riguarda la minima ai 27 per quanto riguarda la massima e allora vediamo diamo conferma con il Gianluca Guidi della spiaggia I Sassi sotto Marotta buongiorno Gianluca buongiorno buongiorno a tutti ecco ti ci confermi un po' questo cambiamento del tempo questa mattina abbiamo trovato qualche pozzanghera per strada quindi vuol dire che questa notte insomma un po' ha piovuto sì questa notte devo dire è stata qua a Marotta abbastanza intensa e molto vento vento veramente forte rapiche importanti anche qualche piccolo danno creato qui in spiaggia però insomma niente di di equatante l'aria ora è il vento ha sfatato via anche tutta l'umidità la temperatura è buona si sta si sta veramente bene oggi spiaggia è il caldo giusto quello che fa arrivare persone al mare per i prossimi giorni la tendenza è quella positiva quella buona un po di venticello che non basta mai finché rimane certi 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 limiti e quindi abbiamo secondo me i prossimi giorni veramente veramente belli ecco questa è la temperatura ideale insomma per stare al mare né troppo caldo né troppo freddo con una temperatura temperata insomma ci si godono le vacanze ma dimmi secondo te sappiamo un po' come è andato ovviamente ma il mese di luglio è un mese da dimenticare oppure qualcosa si può salvare di questa stagione qualcosa si può salvare diciamo quando fa tempo bello anche se è molto caldo comunque non è mai la pioggia è il tempo brutto il freddo quindi anche come affluenza dice è partito un po' sotto tono la seconda quindicina di luglio un po' si è rivisto anche la flusso in spiaggia a livello di turisti che poi dopo magari alcune volte sono mancati per il troppo caldo però insomma io metà mese lo salverei c'è un'apertura oggi sul resto del Carlino vi leggo subito il titolo che dice maltempo e crisi turismo al tappeto record negativi ne parla Boris Rapa tu conosci Boris Rapa che è il rappresentante di Assotel è stato anche consigliere regionale gestisce anche lui un albergo e dice che la stagione sta andando molto male nessuno fa più lunghi periodi di vacanza vacanze molto brevi vacanze senza alcuna prenotazione si decide sempre all'ultimo minuto e poi ovviamente questo tempo non è che ha aiutato molto anche per quanto riguarda quello che è avvenuto poi in Romagna il problema della crisi economica che incide sempre comunque secondo Rapa è una stagione totalmente negativa condividi questo oppure insomma tu ti poni a mezza via tra quelli che dicono bene è un po' è un po' anche male ecco non sono proprio così pessimista come Boris però la stagione che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando non è non è delle migliori anzi insomma poi adesso i numeri è facile farli alla fine di luglio e agosto quando praticamente tutti vanno in vacanza io ho lavorato per diversi anni in un campeggio i titolari di quel campeggio dicevano che le stagioni non si fanno con luglio e agosto si fanno con gli altri mesi e quest'anno gli altri mesi sono sono mancati per adesso i primi mesi sicuramente settembre lo sappiamo tutti quando iniziano le scuole si fa fatica poi a rifare a rifare grossi numeri insomma lavori un po' con gli stranieri ma è una cosa marginale della stagione quindi sì effettivamente questa è stata venevamo da due stagioni belle perché il 2021 insomma non possiamo lamentarci c'è stato c'è stato un buon afflusso e questa è andata così ci sono stati vari fattori quello economico, gli alluvioni, l'infidenza anche della gente mentre la rinapoli inizia, il caldo sì ci sono un sieme di fattori che l'hanno resa una stagione difficile comunque tu hai centrato benissimo il problema perché la soluzione di tutto può allungare la stagione cominciare veramente da maggio può arrivare anche settembre e anche ottobre perché anche ottobre quando il tempo emite insomma è un mese propizio per andare a bancazza grazie Gianluca, interrompiamo il nostro collegamento, ci sentiamo domani ora continuiamo a dare un'occhiata ai giornali per relazionare sulle notizie del giorno a domani, grazie, ciao allora siamo sul resto del Carlino abbiamo visto l'articolo di apertura, anzi lo vediamo adesso sulla pagina se la regia ce l'inquadra, eccola qua maltempo e crisi, turismo al tappeto, record negativi abbiamo detto che queste dichiarazioni sono state fatte da Boris Rapa Boris Rapa a nome dell'Assotel il quale sottolinea che contrariamente ai record che qualcuno preannunciava prima del suo inizio di questa stagione insomma il bilancio è negativo ad oggi i record sono solo negativi ha detto la gente non c'è nessuno fa più lunghi periodi di vacanza e questo trova d'accordo anche Luciano Cecchini che è presidente dell'associazione Federal Berghie quello degli alberghi consorziati di Fano, Torrette e Marotta in questa settimana finalmente in città si iniziano a vedere gli stranieri ha detto Cecchini anche se negli alberghi se ne vedono di meno di quanti ci si possano aspettare sentendo le impressioni dei commercianti e dei ristoratori perché poi tutto è concatenato se ci sono meno turisti ne risentono i concessionari di spiaggia ne risentono gli albergatori e ne risentono anche i commercianti perché il turismo è uno dei settori dell'economia più importanti del nostro territorio che mette in movimento diversi settori della stessa continuiamo la nostra rassegna stampa con la notizia del giorno purtroppo quello del delitto che si è svolto a Fossombrone e vediamo come lo relaziona il resto del Carlino le ha sparato da 20 centimetri quasi una esecuzione quel delirio esploso in un colpo solo omicidio senza alcun movente almeno fino al momento in quanto l'assassino Andrea Marchionni ha fatto scena muta non ha spiegato le motivazioni del suo gesto Andrea Marchionni e i suoi incubi alla base della tragedia domani sarà sentito dal GIP di Urbino quindi un solo colpo un colpo alla fronte ma sparato da una distanza brevissima quasi una esecuzione 20 centimetri al massimo la pistola una berretta 9 per 21 e poi il volto incredulo di Marina certo non si aspettava una reazione del genere anche se aveva avuto delle perplessità dei timori per quanto riguarda l'atteggiamento di quest'uomo che non la convinceva per nulla ebbene quel colpo ha spezzato una vita una vita di una quarantenne che era felice aveva una bambina aveva una relazione insomma aveva una prospettiva davanti a sé e tutto è finito chissà se domani davanti al GIP del Tribunale di Urbino nell'interrogatorio di Convalida dell'arresto Andrea Marchionni riuscirà a fare quello che finora non ha fatto cioè spiegare le motivazioni del suo gesto un gesto che ha creato tante tante sensazioni tante emozioni in tutti coloro che conoscevano appunto la vittima ma anche in tutta la cittadinanza e oserei dire anche al di fuori di Fossombrone Fossombrone comunque ha dichiarato il lutto cittadino la comunità è sotto sciocche forse domani pomeriggio il funerale nella chiesa di Maria Ausiliatrice la vittima è Marina Luzzi appunto di 40 anni poi qua abbiamo il ricordo della sorella tra lacrime e rabbia Marina era terrorizzata da lui ha dichiarato Milena Luzzi appunto la sorella di Marina mi diceva che quell'uomo era un invasato parlava solo di complotti e poi il dolore della madre almeno fatemela vedere ha dichiarato sono distrutta anche per Enrico e la bimba appunto il suo compagno e l'assassino è appunto il fratello di questo ultimo una veramente una situazione drammatica di cui però si continuerà a parlare per questa vicenda così strana così inattesa e allora torniamo sulla pagina di Fano dove la notizia di Cronaca ci riferisce ora a un nuovo commento per quanto riguarda quell'aggressione del diciottenne fanese che è stato aggredito da un gruppo di giovani coetani si può dire poco più anziani insomma è un termine molto non appropriato forse qualche anno in più nei confronti della loro vittima un pretesto per aggredirlo e massacrarlo di botte aveva pestato la cicca che uno di questi aveva gettato per terra pestaggio a Lido il papà del giovane aggredito per lo smalto riflettiamo sugli educatori vi ricordate la vicenda che si è verificata nei pressi della Rocca Malatestiana dove due giovani pesaresi furono aggrediti perché uno di loro aveva lo smalto alle unghie ora il papà di uno di questi interviene dicendo le sue impressioni per quanto riguarda questo nuovo pestaggio che ha destato anche qui sensazioni in tutta la città ed ora diamo un sguardo ad un articolo curioso ebbene è una signora una signora amante dei gatti e ne ha tanti in casa ma forse tanti non è che è molto facile tenerli diamo un'occhiata a quello che ci riporta Tiziana Petrelli in questo articolo Claudia non portate via i miei gatti è l'appello di questa signora che vedete qui nella fotografia ha 78 anni e racconta la sua vita con i suoi piccoli amici si è circondata di gatti ha cominciato dando da mangiare a qualcuno di loro poi ovviamente avendo avuto la certezza che lì c'era del cibo tutti i gatti randaggi della città ma non solo dalla città insomma del circondario ma non solo quegli randaggi anche di quelli che magari appartenevano ad altre persone hanno cominciato ad andare lì per mangiare nelle scodelle che la signora riforniva dicono che li tengo male dice la signora ma non è vero sono tutti in salute in comune mi stanno rovinando la vita è il suo appello mi vogliono portare via i miei gatti dicono che li tengo male ma oggi è venuto anche il veterinario e i dieci gatti ne ha dieci sono tutti in salute solo due sei mesi hanno un piccolo disturbo agli occhi ma con una pomatina tutto si risolve ha detto la signora ebbene è un problema perché poi portare via i gatti a questa signora vorrebbe dire portargli via una ragione di vita perché poi magari anche quando si ha una certa età tutto si riduce ad una compagnia non avendo relazioni umane vicino a sé con cui condividere la giornata questa signora li condivide con i gatti ed è una bella cosa e sarebbe veramente triste e brutto portargli via questa unica consolazione Gianni Morandi Gianni Morandi è venuto a Fano e ha fatto gli auguri alla signora Maria Tena che gestisce il ristorante da Maria in via 4 novembre e quindi ha fatto il giro del web ieri la foto di Gianni Morandi con la fanese Maria Tena con un gran piatto a base di pesce che poi magari Morandi ha gustato in questo ristorante Gianni Morandi è venuto a Fano diverse volte doveva con la sua Nazionale dei Cantanti fare base a Fano nei pressi della zona sportiva della Trave un progetto che purtroppo è rimasto in cielo nel cassetto si dice che non è del tutto svanito ma chissà se ritornerà veramente centro senza auto ok degli ambientalisti una presa di posizione in questo articolo con il fondo celestino di Lupus in fabola che intervenendo sulla discussione discussione che c'è tra alcuni favorevoli alcuni contrari sulla pedonalizzazione di via Bovio cosa fanno? Dicono che il centro storico dovrebbe essere pedonalizzato totalmente con qualche eccezione per quanto riguarda i residenti quindi tutti coloro che abitano fuori non potrebbero più entrare con le macchine nel centro storico mentre i residenti ovviamente hanno qualche opportunità è una presa di posizione che Lupus in fabola ribadisce da tempo e che determina una discussione una contrarietà di pareri c'è chi è favorevole c'è chi è contrario che nei confronti dell'amministrazione comunale non è stata mai risolta perché nessuno ha ancora avuto il coraggio ormai ce ne sono poche di vie che possono essere percorse da automobili nel centro storico ma che nessuno ancora mai avuto il coraggio di sopprimere definitivamente ed ora lasciamo Fano e andiamo a Pergola weekend di vino un grosso festival una grossa festa a Pergola perché Pergola ha dei vini molto pregiati a parte le visciole Pergola brinda alle specialità l'ingresso alla Kermesse sarà gratuito per tutti musica e animazioni passeggiate tra le vigne con degustazioni in cantina e tantissimo altro una bella occasione non solo per andare a vedere i bronzi di Pergola ma anche per gustare le specialità gastronomiche del nostro entroteria vediamo ancora la pagina vediamo Urbino vediamo Urbino perché a Urbino ci sono novità per quanto riguarda l'istituto Raffaello quell'istituto che deve essere demolito per essere poi ricostruito appunto ex novo arriva la gru in questo caso e si comincia a demolire il liceo l'annuncio dato dall'architetto della provincia Maurizio Bartoli per il classico Raffaello operazioni senza sosta ad agosto fino dell'opera forse entro il 2024 la fine la conclusione dei lavori e quando si parla del liceo Raffaello si parla anche del liceo Nolfi di Fano del liceo l'ex Carducci che dovrebbe essere demolito e poi ricostruito ma in questo caso l'ex Carducci è molto più in ritardo rispetto a Raffaello a fondo pagina della pagina di Urbino si ricorda un sacerdote un gran sacerdote si tratta di Don Gino Palazzi che fu parroco di Santo Stefano di Gaifa a Canavaccio di Urbino la parrocchia in cui svolse per 50 anni la sua lunga missione di sacerdote un sacerdote esemplare anche se a volte controverso incompreso anima eucaristica e mariana compiva lunghe veglie di notte in chiesa davanti al Santissimo Sacramento in preghiera e recitando rosari cosa che faceva anche quando viaggiava in macchina e a piedi pensate percorreva anche 6 chilometri a piedi per andare a celebrare messa ebbene sono passati 20 anni dalla sua morte e ora Don Gino viene ricordato a Fossombrone a Fossombrone una iniziativa di immagine molto bella luce in circolo si chiama la città spiegata con la luce domani si inaugurano le molliche di pane così si chiama che illustrano luoghi eventi e mostre di attrazione in centro storico si parte alle ore 21 quando ci sarà l'inaugurazione di questo luce in circolo che cos'è è un anello stradale costituito da illuminazioni videomapping installazioni artistiche tutto quanto per rendere ancora più importante più bello più evidente tutte le attrattive turistiche di Fossombrone a partire dalla bellissima chiesa di San Filippo la casa museo quadreria Cesarini il museo archeologico e la pinacoteca Vernareggi da andare a vedere senza meno per chi vuole poi conoscere anche l'antica forum Semproni a San Martín del Piano e poi tante altre cose che vengono messe in evidenza con una suggestione luminosa del tutto particolare a Piobico invece c'è musica arte cucina Bacciardi rivive con il festival da venerdì a domenica una tre giorni a Piobico di arte varia e grandi attrattive bene questo per quanto riguarda il resto del Carlino ora apriamo la pagina sul Corriere Adriatico una rapida scorsa alla pagina che riguarda il delitto di Fossombrone freddata come in una esecuzione ma il cognato non svela il perché e poi ancora il dolore della sorella Marina buio e silenzio dentro e fuori fino al giorno dell'esequio a Fossombrone sarà lutto cittadino così ha decretato il sindaco la pagina di Fano si apre con un escursus sul problema dei parcheggi in modo particolare i parcheggi a pagamento l'ASE ne gestisce 991 guardate che sono all'opera cinque accertatori della sosta per verificare se il tempo della sosta degli autoveicoli si concorda con il ticket che è stato pagato le sanzioni più diffuse per l'assenza di ticket nelle vie Gramsci e Cavallotti però comunque anche nella zona Lido il problema dei parcheggi grazie appunto ai parcometri ha ricevuto un cambiamento piuttosto vivace quindi qualche posto ancora si trova certo è che mancano le zone libere l'unica area di sosta sempre intasata è quella dell'ex Vittoria dove lì il parcheggio è libero ma ovviamente chi pone la macchina lì al mattino la toglie la sera per godersi una bella giornata in riva al mare e poi diamo una notizia di un effanese che si è fatto onore si tratta di Fabrizio Nicotra Fabrizio Nicotra è figlio del celebre noto medico Giovanni Nicotra medico chirurgo che ha operato a Fano alla Santa Croce per tanto tempo ora è in pensione Nicotra invece ha scelto la via del giornalismo e proprio la società Caltagirone che gestisce sia il Corriere Adriatico che il Messaggero comunica che dal 19 agosto prossimo Fabrizio assumerà la direzione del quotidiano nazionale della Fris Press Leggo Nicotra ha 52 anni appunto è fanese e quindi ha assunto questa carica prestigiosa per quanto riguarda la direzione di un giornale seconda pagina dedicata a Giovanni e alla signora Maria 90 anni una fila di fani in trattoria per i selfie con il cantante bolognese una bella sorpresa appunto per la signora ma anche per Fano e poi al Codma al Codma occorre nuovo personale rinnoviamo il gruppo dirigenziale è l'appello del direttore per una decina di diplomati e laureati in agraria che seguono le produzioni si tratta di un appello per dare ancora più vita a questo centro importante vediamo anche a Mondavio a Mondavio si parla del banchetto rinascimentale segue il concerto rossignano sono tutti gli appuntamenti di oggi domani a Mondavio tra spettacolo e storia bene il banchetto rinascimentale è un unicum per atmosfera per gusto per coreografia veramente un tuffo nel medioevo un'altra notizia per quanto riguarda Senigallia quante new entry nel segno del gusto Senigallia è ormai una meta gourmet e anche qui l'enogastronomia fa da padrone ed è una delle grandi attrattive del nostro turismo a questo punto noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre appuntamento alle 7 di domani grazie per l'ascolto a risentirci